Parliamo delle procedure per l'adozione di un cane. Sì, l'adozione di un animale che possa essere un cane o un gatto, mezzo volontario, in genere consiste in un incontro conoscitivo dove il volontario ha fatto delle domande, c'è solitamente un modulo, questo modulo viene compilato insieme chiacchierando sulla scelta relativamente all'adozione e questo in qualche maniera indirizzerà anche il volontario stesso del proporre un cane piuttosto che un altro. Ecco, l'adozione deve essere un'adozione responsabile, quali devono essere i requisiti per poter prendere un cane? Fondamentalmente non ci sono requisiti, si tratta di un incontro uomo-animale perché appunto l'adozione deve essere consapevole. È chiaro che il volontario non tenderà mai a voler far adottare il cucciolo alla persona di 90 anni perché materialmente magari una persona di 90 anni non può star dietro un piccolo cucciolotto che ha bisogno di correre, sgambare e giocare e potrebbe causare del danno anche all'anziano. Se io ho una vita sociale molto attiva, esco, faccio delle camminate, vado in montagna, sicuramente il mio cane congeniale sarà un cane da lavoro attivo che ha bisogno di scaricare quell'energia quindi può andare bene un molossoide, un cane da caccia. Perché fondamentalmente ciascuno di noi ha un cane ideale per trascorrere anche il resto della propria vita, il proprio tempo. Esatto, ci sono dei cani che sono più avvezzi al divano come noi pantofolai, ci sono dei cani più attivi come chi ama fare sport. Le regole diventano strette per chi non è avvezzo al dialogo. È chiaro che il volontario non è la Gestapo, non è l'agenzia dell'entrata che ti chiede la dichiarazione dei redditi qualora tu vuoi adottare un cane. Ovviamente un cane o un gatto sono degli animali che comunque possono ammalarsi come noi persone e quindi comunque tendiamo ad affidare un animale, soprattutto magari se ha delle patologie, a una persona che abbia comunque la possibilità eventualmente di poter pagare il veterinario, comunque delle cure minime, base, non parliamo dell'incidente, dell'imprevisto. Successivamente quello che chiediamo è la possibilità di un incontro, comunque il post-affido, che non è la Gestapo che arriva a casa tua, tu dove hai il cane, come lo tratti, ma è semplicemente il mantenimento di un rapporto con l'adottante. Io ancora oggi a distanza di 14 anni ho i miei adottanti che mi mandano delle fotografie, mi mandano i messaggini, a Natale mi mandano la fotografia con il cagnolino, Artuti augura Buon Natale, anche dopo 14 anni si entra in relazione con l'adottante. A chi si deve rivolgere se si vuole adottare un cane? Le associazioni animaliste locali, il canile municipale ha delle volontarie, ci sono delle volontarie singole che non fanno parte di associazioni ma che stallano e gestiscono le adozioni, quindi potete guardare i profili social dei volontari locali o delle associazioni locali. Per concludere, perché adottare un cane? Perché ti migliora la vita, perché non ti fa sentire solo, perché ti rende una persona migliore. Grazie.